Si è chiusa con serata d'onore lo spettacolo di musica e poesia con protagonista Michele Placido la stagione teatrale del Curci di Barletta 2015-2016. Un'esibizione sotto le stelle, aperta a tutta la cittadinanza, che conclude una kermesse di grande qualità e fa da trait d'union con il cartellone di eventi già in fase di programmazione per la prossima stagione. Che potrà contare ancora una volta sul supporto del teatro pubblico pugliese e sulla supervisione di un consulente artistico d'eccezione come Michele Placido. La prossima stagione teatrale avrà delle grandi firme, sia di registi come Alessandro Gasman, sia di attori come per esempio Ambra Angiolini, Francesco Sciana, che saranno i protagonisti della mia commedia diretta da me, Pinter, Tradimenti, i Tradimenti e poi come sarà per esempio il padre con l'interpretazione di Alessandro Haver. Ma ecco, Vacanze Romane con Serena Utieri, insomma ci sono già delle anticipazioni mi pare che il pubblico può gradire sia sul piano della drammaturgia drammatica ma anche in quella della commedia. Il legame con la città di Barletta è antico e autentico, prosegue Placido, ed è un piacere continuare a coltivarlo attraverso l'arte. Da ragazzino mi portavo qua mio padre a mangiare pesce e a vedere la disfida di Barletta, cioè a visitare la città della disfida di Barletta. Questo sicuramente è perché è la città che più esprime in una provincia invece almeno appunto culturalmente rispetto al territorio della Daunia, che non ha tanti eventi come ecco da Barletta in poi, anche adesso voglio dire possiamo vedere che forse perché i posti di mare in qualche modo sono sempre stati più ricchi culturalmente di quelli dell'entroterra. Barletta era per noi l'avamposto della cultura pugliese. Per il sindaco Pasquale Cascella il filo conduttore tra una stagione che si conclude con un numero importante di spettatori ed un'altra che vuole iniziare sotto i migliori auspici rimane la qualità della proposta culturale. Palacido ci ha assicurato un suo personale impegno per qualche momento rievocativo della disfida di Barletta, insomma dicevo prima che abbiamo poche risorse finanziarie a disposizione però ci sono grandi idee e grandi disponibilità, questo è un fatto importante, questo è qualcosa che credo onori la stessa città. Sottolineare un evento